Sono partite dalle dichiarazioni dell'imprenditore Gianluca Lamarca, coinvolto in un'altra inchiesta giudiziaria, le indagini che oggi hanno portato agli arresti domiciliari il sindaco di Eboli, Massimo Cariello. Al centro dell'inchiesta, che ha visto al lavoro la Guardia di Finanza e che coinvolge anche quattro funzionari dei comuni di Eboli e Cava dei Tirreni, le procedure concorsuali indette nel 2019. La Procura della Repubblica guidata da Giuseppe Borrelli ha messo in luce una serie di episodi corruttivi nei due comuni. In particolare le persone indagate in cambio di favori di varia natura hanno condizionato l'esito di due concorsi pubblici. Le indagini che vedono in totale indagate 13 persone hanno consentito di accertare che, nel caso del concorso bandito dal comune di Eboli per un posto di asilo nido, il primo cittadino ha concordato l'ordine della graduatoria con il presidente ed un membro della commissione, rispettivamente Anna Maria Sasso e Vincenzo D'Ambrosio, favorendo così l'assunzione come educatore di asilo nido di un candidato a lui vicino. In cambio dell'attribuzione al soggetto segnalato di un ponteggio utile, i due componenti della commissione, entrambi dipendenti comunali, hanno ricevuto la promessa dal sindaco di incarichi più importanti. Nel caso invece del concorso indetto dal comune di Cava dei Tirreni per l'assunzione di dieci unità di istruttore e direttivo amministrativo, sempre Massimo Cariello, ancora una volta per agevolare un candidato a lui vicino, ha chiesto ed ottenuto di conoscere gli argomenti della prova d'esame ad un componente della commissione esaminatrice, si tratta del funzionario Francesco Sorrentino. Quest'ultimo in cambio ha preteso dal sindaco l'impegno ad evitare la nomina quale presidente del consorzio farmaceutico, dove ricopre la carica di direttore generale di un soggetto a lui non gradito. Nel corso delle indagini sono emerse gravi irregolarità pure nella gestione amministrativa del comune di Eboli, in particolare lo stesso sindaco Cariello, questa volta con il contributo di Giuseppe Barrella, funzionario comunale, ha rilasciato dei permessi autorizzativi illegittimi a due imprenditori che hanno realizzato un impianto industriale nella zona agricola della Piana del Sele, sottoposta a vincolo paesaggistico. In cambio i due imprenditori si sono prestati alle richieste del sindaco di concedere dei fondi ad alcune associazioni che a Eboli hanno organizzato eventi e manifestazioni patrocinate dal comune. Nel corso delle operazioni, oltre ad eseguire le misure cautelari personali, si è proceduto al sequestro preventivo di questa struttura di proprietà della Alphacom Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.